Buonasera dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi in Genova un saluto bianco celeste da parte di Luigi Sinibaldi tutto ok via Fabri per quanto riguarda il fisco inizio partiti la green della Sampdoria Milinkovic Cataldi paralunga verso Immobile attenzione Ferrari un po' di difficoltà infatti sbaglia occhio Immobile ancora apertura per Zaccagni che può andare ancora l'assist verso Milinkovic Sergione la sua in vantaggio al settimo minuto del primo tempo una manovra voluta dalla squadra di Maurizio Sarri che con grande lucidità dovrà mettere dentro il pallone dell'1-0 stoppa di petto Ferrari che viene accreditato attenzione da Tospic e suo compagno di squadra Milinkovic allora subito per Zaccagni butta Berecinski arriva anche Baci cimicissimo ancora Zaccagni Zaccagni è di rigore bloccato Immobile Immobile 2-0 2-0 Piecco Celeste con Ciro segna un gol bellissimo 2-0 la Lazio e avanti i due gol al 17 ha segnato il 17 Ciro Immobile calcia l'ex peronese Cataldi di testa poi Petro giù il pallone ancora con Immobile che scatta però ancora Petro c'è Baci c'è anche Immobile arriva anche Zaccagni Francesco Petro cerca Lassi per Zaccagni che palla per Immobile Autero incredibile una parata pazzesca Lazio vicissima il gol del 3-0 Zaccagni Berecinski non riesce a tenerlo poi che palla ancora la soterra per Marusic era di rigore ancora lui poi dentro verso Milinkovic era di rigore verso Immobile Immobile ma che gol ha fatto ancora assistenza di Sergei Milinkovic e Ciro Immobile per il 3-0 Bianco Celeste al 37esimo non ha perdonato Ciro Immobile altra grandissima azione della Lazio ma intanto finisce qui la prima frazione di gioco con Lazio che è sul 3-0 Lazio per il cross arriva adesso sul secondo palo Marusic allontana dopo delle parti però di Adrian Silva sempre lui lezione Torsby a la di rigore Strakosha un miracolo e poi viene aiutato da Acerbi a mettere il pallone in fallo laterale paralarga dove c'è Berecinski può andare dalle parti di Gandreva Marusic sporca il pallone però in fallo laterale la rimessa è per la Sapa ancora Berecinski prova il cross sul secondo palo non esce Strakosha cerca il tiriporto ancora Strakosha un miracolo pazzesco su Gabbiadini pallonettissimo tanto parte Augello con Milinkovic si prende l'ammunizione doveva dire qualcosa anche al direttore di gara giallo rosso per Milinkovic poi subentra ancora Cerbo grossa attenzione c'è il tiro in porta con la rete di Gabbiadini dopo che la palla è andata avanti a Acerbi intanto è un po' presa ancora con Felipe Anderson Caputo di rigore sul secondo palo occhio Cerbo Marius c'è pure tutto Poglietta l'ancora anche la porta e poi Strakosha la trugge il pallone hanno provato a spingerla di potenza i giocatori della Sampdoria intanto finisce il match Lazio torna a vincere in trasferta dopo la prima di campionato contro l'Empoli in Serie A 3 a 1